Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. Il nome di Lorenzo Insigne continua a orbitare sul mercato dei trasferimenti della Lazio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante di Toronto spesso si siede con Sarri e sarebbe molto felice di abbracciarlo nuovamente a Roma. Il vero ostacolo è rappresentato dallo stipendio di circa 7, 5 milioni, quasi il doppio del tetto salariale della Lazio. Il giocatore potrebbe anche ridurre il suo stipendio, ma il club canadese con cui ha un contratto fino al 2026 deve ancora essere convinto. Sarebbe necessaria un'offerta significativa. In ogni caso, la suggestione rimane calda per gennaio. E voi, tifosi bianco-celesti, pensate che la Lazio riuscirà a contrattare Insigne? Lasciate la vostra opinione nei commenti, poiché è molto importante per la Lazio.